Buongiorno a tutti, ieri è stata una giornata un po' complessa, difficile dal punto di vista di vela, ma anche abbiamo avuto un problema strutturale nel sistema della randa, specificamente nella rotaia, ma per fortuna noi come un team di Coppa America non abbiamo un pezzo di riposizione, spero, e abbiamo lavorato, il short team veramente ha fatto un lavoro fantastico, abbiamo lavorato tutta la notte, insieme con il designer per giustamente sistemare e mettere a posto questa parte, questa spare del main sheet system. E niente, oggi siamo pronti, veramente caricati per fare una bella regata oggi, provare a definire questa semifinale della Louis Vuitton.